Anne Frank era una ragazzina con una vita semplice e felice, ma un giorno arrivarono i nazisti. Lei e la sua famiglia andarono a rifugiarsi in una stanzetta della fabbrica di suo padre. In seguito i nazisti li portarono nei campi di concentramento e per anni la vita iniziò a essere molto difficile e iniziò a indebolirsi. Purtroppo solo il padre sopravvisse, ma il diario di Anne si salvò. Carachitti, con tutti i miei amici posso soltanto divertirmi, si fanno solo discorsi banali. Per quanto mi sforzi, non si parla mai di argomenti più intimi. Ecco perché appena ti ho vista tra i regali ho capito che eri speciale. Sarai quindi l'amica del cuore che in vita mia non ho mai avuto e ti chiamerai Kitty. La ricchezza, la bellezza, tutto si può perdere, ma la gioia che hai nel cuore può essere soltanto offuscata. Per tutta la vita tornerà a renderti felice. Prova una volta che ti senti solo e infelice o di cattivo umore a guardare fuori quando il tempo è così bello. Non le case dei tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai di essere puro dentro e che tornerai a essere felice. Grazie. 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 Grazie.